Wedding Luxury Drive Alfonso Signorini inaugura il nuovo punto vendita di riferimento per i matrimoni da sogno. Le nozze da sogno a prezzi contenuti ora sono possibili grazie al Wedding Luxury Drive, società leader nel settore dei matrimoni che ha inaugurato la sua nuova sede sulla circonvallazione esterna. Ospite d'eccezione Alfonso Signorini che ha tagliato il nastro assieme all'imprenditore Salvatore Gianporcaro. Chi vuole una giovane coppia che voglia sposarsi viene anche scoraggiata dal credere nell'istituzione del matrimonio perché costa un sacco di soldi. Quindi aver saputo che c'è questa impresa locale che aiuta le giovani coppie, anche quelle non giovani perché si può scoprire la gioia del matrimonio anche a 70 anni, e offrendo un pacchetto che ha dell'incredibile, perché poi non tocca a me entrare nei dettagli, però credo che sia veramente conveniente, beh è una bella iniziativa perché significa veramente stare dalla parte della gente. Il progetto provvede una joint venture con tante altre aziende che operano nel wedding per costruire un pacchetto completo di qualità a prezzi conveniti. L'officina del matrimonio, Wedding Total Case, una rete di partner che con la sinergia, con le giuste strategie, hanno realizzato un intero matrimonio a soli 19.900 euro. Noi con 20.000 euro riusciamo a realizzare il matrimonio per gli sposini, offrendogli un ristorante per 100 persone, arredamento, bomboniere, partecipazioni, atelier, auto di lusso, servizio fotografico e anche viaggio di nozze. All'inaugurazione presenti tantissime coppie prossimi al grande passo, ma anche curiosi e addetti ai lavori che hanno avuto la possibilità di apprezzare l'eccellenza del territorio e di tutta la campagna.